Bene, Raif Badawi, blogger, fondatore di Free Saudi Liberals, non può sopportare altre frustate, su questo siamo d'accordo tutti. Quindi il senso di questa risoluzione in primis è richiedere alle autorità saudite di bloccare questa condanna e di liberare Raif Badawi. Ma da questo deve scaturire una riflessione un po' più ampia di quello che è il nostro amore nei confronti dei petrol dollari e di quelli che sono i nostri rapporti con l'Arabia Saudita. Perché siamo in presenza di continue e perpetrate violazioni del diritto internazionale e violazioni dei diritti umani e che fanno sì che anche nei confronti di un paese che è un alleato dell'Occidente si crea una situazione ipocrita quando si parla di lotta al terrorismo. Perché come si può lottare le pratiche dell'Isis quando consideriamo amico un paese che impone pene corporali a chi fa libertà di informazione o a chi si oppone o a chi critica la religione? Questa è la riflessione. Grazie.